L'edilizia sostenibile made in Puglia sbarca a Londra per partecipare a Future Build 2022. La Regione Puglia, sezione promozione del commercio, artigianato e internazionalizzazione delle imprese, in collaborazione con Puglia Sviluppo, sarà nel Regno Unito per accompagnare una delegazione di imprese all'evento internazionale, in programma a Londra dal 1 al 3 marzo negli spazi dell'Excel Exhibition Center. Future Build è la più grande fiera al mondo dedicata al settore dell'edilizia sostenibile e dei materiali da costruzione e da interni, con particolare interesse per la sostenibilità energetica. L'importanza dell'evento si misura dai numeri e dalle presenze degli anni scorsi. 20.000 visitatori nel 2020 provenienti da 125 paesi. Altissimo inoltre il target rappresentato da professionisti e operatori del settore, l'88% dei quali con posizioni menageriali e rilevante presenza di architetti, ingegneri e costruttori. Un'opportunità davvero importante per le imprese della delegazione pugliese, ha spiegato l'assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Dell'Inoci. Peraltro in un settore, spiega, al centro delle nostre politiche, finalizzate alla tutela dell'ambiente. Future Build è diventato un appuntamento imperdibile per chi è interessato alle tecniche e alle soluzioni all'avanguardia nel comparto delle costruzioni ecologiche. Partecipando, la Puglia punta a valorizzare le eccellenze produttive del territorio nel comparto della bioedilizia, ma anche le opportunità di investimento nel nostro territorio per le imprese estere. Nonostante la crisi determinata dalla pandemia, la Puglia ha esportato nel mondo, nei primi nove mesi del 2021, materiali da costruzione per un valore di 76,8 milioni di euro, in crescita del 15,4% rispetto allo stesso periodo del 2020.